tutti allora benvenuti a pomeriggio in questo video di creazioni che ho acquistato da taris creazioni ciao tamara grazie tesoro e quindi adesso vi mostro quello che ho preso lei e scusate questo spostiamo tutto allora con ogni si ciao bene cominciamo subito con l'impaverarsi allora con ogni stampo no con ogni creazione andrò a creare gli stampi che ho già creato alcuni allora questo breve mens poi preso la cioccolata poi ho preso ho chiesto a tomara il teschio e il diamante questo è quello che ho riprodotto io ma vada tu l'altro eccolo qua questo è quello che mi ha inviato tamara così bellissimo questo rosso bitteroso e io l'ho riprodotto questo rosso abbastanza trasparente troppo e vabbè questo non cerca niente adesso poi le alette bellissime queste le ho viste in un suo video stupendo i colori che stupendi colori causato mi piacciono tantissimo sbrilluzzicano da matti poi o dunque sono due fiocchettini eccoli qua poi c'è e lo kitty poi se non mi sono perso qualche altra cosa in giro in teoria e poi sono le zampette allora queste mi le ha regalate poi mi ha regalato anche la rosellina i fiocchetti cioè veramente un sacco di cosine mi ha regalato e ne ho fatto lo stampo di questa perché questa è lucida quella che ho io invece è opaca vedete quante brilla questa e mi ha mandato queste grandi e questa piccolina anche questa lucida e quindi con questo ho realizzato lo stampo quindi questo è il biglietto da visita di tamara unità riscrizioni fa delle cose fantastiche in fimo in più tutte queste belle cose con la resina tutti veramente delle cose pazzesche bellissime e niente io ho preso queste cosine ok poi vi mostro quello che ho acquistato oggi comunque per la resina va bene vari smalti di questo è viola forse non è neanche ora di fare il video perché comunque sta scurendo ho acceso anche le luci però vabbè il giallo questo verde poi ho preso rosso questo è arancio vedete e questo è rosso poi ho preso un po di glitter allora questi che sono blu li ho blu però non so se sono questo tonalità di blu non lo so provare ho presi blu li ho presi questo rosa molto chiaro ecco non si vede un pavero ok eccolo poi ho presi verdi perché non li ho verdi poi ho preso questo celeste azzurro azzurro li ho presi fucsia eccoli qua azzurro e fucsia poi 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 ho preso questo che li stavo finendo quindi preso questo un barattolone sono c'è scritto quanto so non c'è scritto boh non c'è scritto poi ho presi anche argento che stavo terminando anche l'argento poi ho preso questi questa confezione con tutti questi oddio mi sfugge il nome ragazzi ma bada tu che capoccia oggi peggio è oggi è proprio peggio ragazzi ok e questi sono i miei acquistini e poi ho preso anche uno scoccione di quelli grandi vabbè e questi sono i miei acquistini in più vi faccio vedere gli stampi che ho realizzato allora lo stampo della m mens eccolo qua poi ho realizzato aspettate hello kitty le alette qui si era attaccato lo scotch però lo stampo è venuto perfetto e poi la zampa la zampotta vedete quant'è bella lucida ecco poi ritengo così almeno poi li metto nelle bustine e non si impolverano ritengo così poi qui ho fatto il teschio solo che qui tenuta nei questa imperfezione lo devo rifare il fiocchetto e la rosellina questo come primo esperimento poi ho questo ho realizzato questo con la barretta di cioccolata c'è la zampina ancora da pulire questo la zampina più piccola sempre però bello lucido e c'è questo fiocco però devo rifilarlo un attimino lo stampo e niente e questo è tutto per oggi mi dovranno arrivare altre altre forme per fare gli stampi come arrivano farò il video per farvele vedere e poi andrò a riprendere la gomma siliconica ah già lo stampo del diamante laggiù sta dentro va bene e la gomma siliconica da da colata per fare gli altri stampi che saranno tantissimi quindi poi mi divertirò insomma a creare tutte queste belle cose stupende niente allora con tutto questo io vi saluto e quindi al prossimo scopriamo le creazioni in resina oppure resiniamo insieme adesso vediamo ok ciao a tutti un bacione